Sto facendo tanti ruttini al sapore di yogurt, è molto scomoda la cosa, ok? E ciao a tutti ragazzi, sono Adri, bentornati sul mio canale, siamo ancora qui con GTA 4, The Lost and Damned E oggi andremo a fare una missione per Rebocino, che praticamente la scorsa missione dovevamo dei soldi E ce li siamo palesemente tenuti, abbiamo fatto anche bene, perché sto qua è uno stronzo che frega la gente Ma non è assolutamente una novità, vi invito come sempre anche all'inizio, così come alla fine, lasciare like al video, iscrivervi al canale Fare tutte le cose di rito necessarie, perché ve lo rammento, siamo veramente, veramente agli sgoccioli di questa storia Adesso praticamente devo comprare un po' di armi perché sono palesemente rimasto senza Allora questa, questa, ok, possono bastare 4.000 Perfetto, sono rimasti con 1.600 E qua ci rientra anche il giubbotto E i soldi Del Libertonian se ne sono andati così C'è la vie, c'è la vie C'è la merde de vie Tra l'altro Rebocino è vicinissimo, quindi buona, cioè godo I don't have insurance Turn right It's 100 yards Turn left Turn left Eccoci a drusillas Was it worth it? Ce lo diremo Tra poco Well, look who it is Hey How you doing, tough guy? What's your problem? I told you not to get too fucking clever What? Oh, you gotta be kidding Stop walking Downstairs Ok, I'm going That's right Gentleman What the fuck is going on here? Fucking hell Stop that shit asshole Anything yet? Burn him again I Where's my fucking stuff? You see, genius over here would rather get creme brulee before he dies Hopefully you ain't so stupid Where's my stuff? I don't know what you're talking about Fuck you What are you fucking death? Where's my fucking stuff? I don't know Who do you think you're bullshit? A bullshitter? That's funny Forse è successo a parte contraria e l'avrebbe ammazzato subito It's not fucking cool I fucked Ashley my friend And now I'm going to fuck you Where's my fucking stuff? Fuck off, Ray Come faceva ad avere un Coltello Fantastico Però ci dovrebbe tipo l'animazione di premio cerchio per tirare un calcio, cose così No No 10 È tagliato la gola con un trincetto Mi dico Greve Let's get the fuck out of here Calculating route Andiamo da Ashley Aspetta Dove si trova? Merda Lontanina eh Mid quarter è vicino al locale di Gaettoni E Z Vabbè essere... No, non qui Però vicino Allora non saprei identifichare bene però Più o meno siamo qui Sto facendo tanti ruttini al sapore di yogurt È molto scomoda la cosa, ok? Come vanno bene 60 fps Nei tunnel, vaffanculo E non devi caricare la mappa, capito? Non ci sbattere contro la polizia grande La musica qua mi sta veramente facendo girare le palle Oh Ashley? God damn baby girl No Elimina killer dire prima che si andrà a farlo Con solo una mitraglietta così Ok benissimo Pronto Datemi tutte le munizioni che avete Ok Troppa salute persa Fuori una Ecco i secondi Vi aspetto qui Vai fuori due Ah però non due macchine Fantastica una terra non quattro ma li ho fatti fuori io Quanti sordi Ok aspetto gli altri Non mi direi che arriveranno insieme perché non ci credo Eccoli Testa Ma di soldi c'hanno Haddoppiato i soldi che avevo Vabbè non è che ne avessi tantissimi però Ha durato tantissimo te Perfetto Pulitissimo Munitions Munitions Quanti soldi Quanti soldi Goto Vediamo il taxi Questa missione ragazzi Era una cazzata pazzesca Cioè fatelo dire È una cazzata assurda Eccoti qua Eccoti qua Eccoti qua Eccoti qua Beh vorrei vedere Morto Il rimasto solo Il rimasto solo È vero un'altro Va bene, ragazzi. Vi ringrazio della visione di questo video, lasciate like, iscrivetevi. Ci vediamo alla prossima, da Adria è tutto, grazie mille, bacione.